La carbonara a Napoli sarà buona come quella a Roma? Dall'odore non mi sembra saturata come alcune che ho mangiato a Roma Devo essere onesto? 1 a 0 per Roma E' poco salata Esatto Il guanciale non è croccante come me lo immaginavo In fondo alla box però c'era questa fetta di pane nascosta Che un po' mi ha messo allegria devo dire Tutto sommato la generosità, la sorpresa del pane alla fine Non mi va di dargli un'insufficienza a questa carbonara Perché alla fine è mangiabile e se sei napoletano godi di brutto Perché alla fine costa pure 5 euro ed è tanta Quindi un bel 8 secondo me è deserved